il cane spartano è solo un brutto ricordo ce l'hai fatta non ce l'avrei fatta senza il tuo aiuto ma certo quindi la lettera che mi hai portato ho bisogno che rispetti la tua parte dell'accordo se vuoi i persiani fuori dalla messenia puoi contare sul nostro aiuto quando sarà il momento davvero affascinato prego gli dei che potrà guidarci alla vittoria non so per quanto reggerò ancora questa guerra